Nonostante la crisi, ci sono istituti bancari che mantengono il segno più. La Popolare di Puglia Basilicata ha chiuso il primo semestre 2012 con un incremento dei principali margini gestionali. Un più 0,4% il margine finanziario, più 29,6% il margine da servizi, un più 10,2% il margine di intermediazione, l'utile netto e risultato pari a 2,7 milioni di euro. La raccolta diretta è cresciuta di oltre il 5%, mentre la raccolta globale è pressoché in linea con il dato di fine anno scorso, 6.131 milioni di euro, un meno 0,5%. Gli impieghi a clientela passano da 3.773 milioni a 3.609 milioni per la contrazione di mutui. Attenzione particolare è stata riservata agli accantonamenti, cresciuti significativamente. La Popolare di Puglia Basilicata ha commentato il presidente, l'avvocato Pasquale Caso, ha raggiunto un soddisfacente risultato grazie allo sviluppo dell'attività di intermediazione tradizionale che consolida la nostra vocazione di banca del territorio attenta a sostenere famiglie e imprese. Il direttore generale, il dottor Enrico Ronzo, ha detto che il difficile contesto economico-finanziario, pur condizionando l'operato della banca, ha comunque consentito di continuare a sostenere con attenzione i territori serviti esprimendo una gestione equilibrata e positiva.